amici di atti sport ventiquattro bentornati nuova puntata di minuti di recupero facciamo il punto sui risultati della sedicesima giornata del campionato di serie a per farlo è un piacere di avere in nostra compagnia dopo la parentesi mondiale il responsabile del blog il corner del lungo ma soprattutto un grande amico luca lunghini ciao luca bentrovato ciao andrea grazie mille ancora per l'invito buon anno a te e a tutti i nostri telespettatori luca nel big match in chiusura di giornata l'inter piega 1 a 0 napoli forse non non incisivo come avrebbe dovuto essere e si aggiudica alla sfida del meazza camp ti chiedo due cose campionato riaperto e quali sono le chiavi su cui inzaghi ha costruito la vittoria dei suoi allora devo dire che simone inzaghi è stato bravissimo nel riuscire a bloccare quelle che erano le fonti di gioco del napoli il napoli che abbiamo visto in questa in questa gara non è stato certamente quello che avevamo tutti ammirato prima della sosta per il mondiale non so se questo sia dovuto magari alla appunto alla lunga sosta oppure a una serata no del napoli quello che è certo è che abbiamo visto due squadre molto mature abbiamo visto una partita in cui ci siamo resi conto fin dalla metà del primo tempo secondo me che chi avesse segnato per primo avrebbe probabilmente portato a casa tre punti e così è stato c'è da dire che secondo me il l'inter è riuscita a diciamo a vincere la partita perché è riuscita a bloccare gli uno contro uno di karash velia e soprattutto le verticalizzazioni per diciamo così contro piedi di osimen e nello stesso tempo devo dire che nei razzurri sono stati bravissimi nel riuscire a ottimizzare quelle che sono state le poche occasioni da rete che hanno avuto durante la gara come spesso succede eh le partite tra due grandi squadre vivono di episodi e allora eh proprio quel calciatore di marco che nel primo tempo aveva sbagliato due reti eh di cui una eh sinceramente clamorosa è riuscita a eh invece a confezionare un cioccolatino per Geco che poi ha segnato il gol della vittoria credo che comunque per il Napoli eh sia solamente una battuta del resto ho visto una squadra matura una squadra che comunque sia eh ha lottato colpo su colpo fino al novantesimo ed ha cercato fino in fondo eh diciamo così di rimettere in piedi eh la gara eh però ecco campionato riaperto non saprei eh bisognerà vedere se il Milan riuscirà a dare continuità e la stessa Inter riuscirà a dare continuità perché non dimentichiamoci che l'Inter è l'unica squadra a questo punto del campionato che su 16 partite non ha fatto nemmeno un pareggio ha fatto 11 vittorie e 5 sconfitte che è probabilmente è la compagine che come qualità eh è quella che ha eh diciamo almeno secondo me ehm appunto le qualità per mettere maggiormente in difficoltà il Napoli fino in fondo però è chiaro che le troppe sconfitte fino ad ora eh non hanno eh non hanno dato la possibilità alla squadra di Simone Inzaghi di rimanere in scia al Napoli vedremo che cosa succederà nelle prossime nelle prossime giornate di campionato certo è che il Napoli nelle prossime domeniche dovrà eh sicuramente rimettersi in carreggiata per non farsi rimontare troppi punti da Milan e Juventus. Il Milan inizia nel migliore dei modi e spugna la Reghi superando 2 a 1 la Salernitana ma con qualche rischio di troppo nel finale anche per le troppe occasioni non concretizzate. La mancanza di cinismo in zona gol può penalizzare i ragazzi di Pioli nella rincorsa al bis tricolore? Caro Andrea abbiamo parlato tantissime volte se ti ricordi già all'inizio della stagione mi hai chiesto eh se il Milan poteva eh diciamo così fare il bis dello scuetto dello scorso anno io ti ho sempre detto che per me già nello scorso anno Pioli aveva fatto un miracolo non avendo un attaccante eh diciamo così prolifico in zona rete e anzi eh riuscendo a rivalutare uno come Giroud che negli ultimi anni in Premier League aveva fatto veramente tanta eh fatica. È chiaro che la partita di Salerno è un po' la fotografia del Milan fino a questo momento della stagione nel senso che nel primo tempo il Milan avrebbe potuto fare tre quattro forse anche cinque reti però poi non riuscendo a chiudere la partita nel momento in cui la Salernitana ha messo il calciatore che è riuscito appunto a riaprirla cioè Bonazzoli a quel punto ha un pochino tremato. È anche vero che la fase difensiva della scuola di Pioli continua a essere eh devo dire più che sufficiente però ricordiamoci che l'anno scorso il Milan ha vinto lo scudetto anche perché aveva un portiere che è risultato poi il migliore della stagione. Eh quest'anno invece con l'infortunio eh del lungodegente Magnana adesso si continua a giocare a un tatarusano dal mercato è arrivato un portiere semi sconosciuto come Basquez. Chissà se il Milan riuscirà realmente a rimanere in gioco fino all'ultimo perché sinceramente se segni non qua non per quanto eh produci e prendi praticamente sempre gol diventa difficile nel lungo periodo riuscire a stare davanti a tutti. Sette vittorie di fila e zero gol subiti in altrettante uscite per la Juventus tra cortomuso e varie modi di definire l'allegrismo proprio nella sua massima espressione eh ti chiedo con la rosa al completo il tecnico toscano può andare fino in fondo per il bersaglio più grande. C'è chi lo chiama cortomuso chi lo chiama fortuna per essere diciamo così generosi ed eufemistici. Ecco educati eh però eh ragazzi eh le chiacchiere stanno a zero quando si continua a vincere eh Massimiliano Allegri c'è da dire che ehm è un un tecnico che magari appunto non ruba l'occhio dal punto di vista della qualità del gioco però è se vogliamo se vogliamo dire così è eh diciamo così è un manovale nel senso che riesce sempre piano piano a rimettere tutti i pezzetti a posto riesce sempre a comporre il puzzle e anche con la Juventus di come stanno seppur continuando ad avere tantissime assenze perché anche nella gara di Cremoro non ci dimentichiamo che mancavano ad esempio eh di Maria Paredes dall'inizio e lo stesso Pogba che ormai eh non si sa più quando rientrerà. Devo dire che però è riuscito come dicevi giustamente te a vincere la settima partita consecutiva ehm non so se riuscirà ad arrivare fino in fondo certo è chiaro che incomincia a recuperare quei calciatori che sono mancati per tantissimo tempo oggi ha ricominciato a giocare eh per una mezz'oretta a Chiesa manca ancora Vlaovic manca appunto Di Maria Paredes ehm gioca e non gioca manca ancora Quadrado insomma la Juventus è ancora un quartiere un quartiere aperto certo che vincere partite come quelle di Cremona sono un segnale molto molto positivo per chi vuole arrivare fino in fondo. Poi è chiaro che ehm per quanto riguarda i bianconeri non ci sarà da discutere solamente di ciò che succede in campo ma non dimentichiamoci che anche la giustizia sportiva probabilmente dovrà fare il proprio corso e chissà che eh non sia eh non sia un un percorso che debba essere reso vano magari appunto eh dai giudici eh dai giudici della corte. Minimo sforzo massimo risultato possiamo commentare così il successo di misura della Roma sul Bologna? Una cosa forse ancora più più cinica del cortomuso. Esatto se diciamo se Allegri è il cortomuso Mourinho sta diventando il minimo muso non so come dire ma insomma sinceramente eh la Roma è una delle dal punto di vista del gioco è una delle grandissime delusioni del campionato. Eh al momento è comunque sì ancora eh diciamo in lotta per la Champions a tre punti della Champions League però devo dire che sinceramente il calcio di Giuseppe Mourinho inizia un po' a stancare. Per certi versi non so se sei d'accordo con me Andrea ma ricorda un po' la eh diciamo così la parabola del ciolismo nel senso che sono quelle eh sono quegli allenatori che fanno eh della diciamo così dell'intensità della grinta della volontà eh e soprattutto delle ripartenze il punto più importante però sinceramente quando poi ehm diciamo soprattutto nel caso di Mourinho hai una società che ti aiuta e che cerca comunque di accontentarti attraverso anche grandi colpi di mercato da Abram a eh Di Bala eh e non solo devo dire che sinceramente la Roma è una delle grandi delusioni però anche in questo turno di campionato ha vinto ha vinto 1 a 0 con un rigore di pellegrini dopo quattro minuti e comunque sia eh diciamo così porta altri tre punti che ehm sicuramente non gli permettono di pensare in grande ma che comunque li fa eh li fa stare nel gruppone di eh appunto di ehm diciamo della Champions League che credo sia l'obiettivo finale della Roma in questa stagione. Come possiamo analizzare il crollo accusato dalla Lazio nel secondo tempo di Lecce? Ma io penso sinceramente che la Lazio sia uno dei grandi enigma di questa dei grandi enigmi di questa stagione nel senso che eh Maurizio Sarri nella scorsa stagione ha avuto tutto il tempo per poter plasmare eh la prova squadra se ti ricordi ne abbiamo parlato anche alcune volte qui su Atti Sport 24 dicendo che probabilmente eh il cosiddetto eh il cosiddetto sarrismo non era ancora arrivato a compimento. Nel frattempo eh il tecnico ex Napoli ed ex Juventus ha fatto fuori calciatori del calibro di Luis Alberto eh continua a giocare eh con un calcio diciamo fatto eh di verticalizzazioni però io credo che quando la Lazio non riesce ad avere il miglior Milinkovic-Savic fa sempre tantissima tantissima ehm diciamo tantissima difficoltà eh perché Milinkovic-Savic io penso che sia il giocatore più importante perché riesce a fare perfettamente le due fasi di gioco come le chiede Maurizio Sarri cioè eh grandissima forza fisica nella fase di non possesso nella fase di recupero della palla ma poi soprattutto grandissima fase di verticalizzazione e ehm capacità di inserimento. Poi ancora oggi Ciro Immobile ha timbrato il cartellino appena rientrato però devo dire che la Lazio non riesce a eh chiudere le partite quando va sopra e questo è un grandissimo problema soprattutto in un campionato in cui Juve, Milan, Inter e Juventus sembrano comunque aver trovato il il ritmo giusto se si vuole andare in Champions League chiaramente bisogna fare qualcosa in più e allora bisogna assolutamente trovare qualcuno che a secondi il gioco di Ciro Immobile ma che soprattutto riesca ad accompagnarlo ehm se vuoi nelle gare in cui è mancato Ciro Immobile sembrava quasi che la Lazio fosse riuscita a trovare dei nuovi eh dei nuovi attaccanti che riuscissero a trovare la via della rete no da Zaccagni a Pedro lo stesso Milinkovic-Savic. Una volta tornato Ciro Immobile sembra quasi che la squadra sia contenti di appoggiarsi al centravanti eh della a centravanti della nazionale però probabilmente non è sufficiente per continuare a lottare per la Champions League. A quanta in extremis il pareggio l'Atalanta che recupera due reti allo Spezia ti chiedo cosa sta succedendo alla difesa del Gasp che è vado a memoria alla quarta o quinta partita consecutiva con almeno due gol sul gruppone? Io penso sinceramente che sia stata assolutamente sottovalutata la cessione di un calciatore importante come Freuler nel senso che eh se eh vogliamo eh ricordare le ultime stagioni di Gasperini ehm noi si è sempre pensato a undici calciatori ma nove ruotavano sempre intorno a eh Freuler e Deron. Una volta ceduto Freuler alla Nottingham Forest secondo me il l'Atalanta di questa stagione ha perso un po' di eh come ti posso dire di distanze ma anche di compattezza di squadra. Anche eh le due reti che hanno che ha subito oggi dallo Spezia che non è certo uno dei migliori attacchi del campionato non dimentichiamoci insomma che lo Spezia ha segnato sedici gol in sedici partite ma due le ha segnate nella gara contro l'Atalanta quindi era eh diciamo con una media di meno di un gol a partita ehm diciamo che eh l'Atalanta ho paura che si stia diciamo così per cercare di fare un gol più degli avversari si stia un pochino dimenticando della fase difensiva all'interno della quale appunto Freuler era l'equilibratore della squadra. Probabilmente si è cercato di dare maggiore qualità nella fase offensiva tant'è che quest'anno accanto a Deron gioca praticamente sempre copminers insieme a Ederson acquistato eh diciamo a gettoni d'oro dalla Salernitana però non si riesce a trovare la quadra. Poi non ci dimentichiamo che l'Atalanta ha avuto anche il caso di eh doping di Palomino che certamente non ha aiutato e poi insomma devo dire che ehm i ragazzi di Gasperini scontano secondo me molto anche la questione portiere. Eh dal dal momento in cui hanno acquistato Musso dall'Atalanta si continua con questo continuo ricambio tra Musso e Sportiello che però non si riesce mai a trovare il titolare fisso insomma anche nella gara di Spezia hai un portiere che non ha fatto eh niente per diciamo così per portare via i tre punti da Spezia non ti fa mai vincere la partita non fa mai nemmeno errori e la tanti però non ti fa mai la differenza e nelle diciamo in una squadra fatta di equilibri come quella di Gasperini in cui si attacca in undici e si difende in undici anche questo fa la differenza. Chiudiamo con un'ultima battuta tra le sorprese assolute di giornata il successo esterno della Sampdoria che supera in trasferta il Sassuolo. Il blitz del MAPEI è l'inizio della riscossa per i blucerchiati? Allora guarda questo non lo so però guardando oggi la Sampdoria sinceramente sembra una squadra nuova rispetto rispetto a quella di 52 giorni fa quando il campionato è finito. La Sampdoria sta facendo un mercato molto intelligente già nella gara di Sassuolo eh sono stati impiegati fin dall'inizio i due nuovi acquisti eh che poi insomma sono arrivati praticamente a parametro zero uno in presto e l'altro eh in eh diciamo così era era praticamente in cioè diciamo eh che sarebbe andato in scadenza a giugno cioè Nuitin che quindi è stato dato gratuitamente dall'Udinese. Lammers davanti insieme a Gabbiadini. Nuitin che ha aiutato tantissimo la difesa della Sampdoria anche se è stato eh il colpevole del fallo dal rigore eh che poi ha riaperto la gara però la Sampdoria ha giocato un calcio completamente diverso. È sembrata una squadra eh più più grintosa ma soprattutto che fisicamente ci eh corresse di più e ci credesse eh maggiormente. Poi è chiaro che quando ehm diciamo eh giochi una partita in trasferta e la prima volta che ti presenti eh diciamo così in area di rigore avversario riesci a trovare il gol eh il gol del vantaggio questo cambia completamente eh le sorti della gara. Se poi dopo tre minuti addirittura fai il raddoppio con un terzino come Augello che ha fatto un gol bellissimo ma che comunque fa sì e no eh uno o due gol all'anno ecco allora che magari incominci a pensare che possa veramente cambiare il vento. Stankovic è un grandissimo motivatore non so se la Sampdoria riuscirà a salvarsi però certamente ha dato un segnale importante perché comunque sia veniva da tantissime sconfitte consecutive un po' come il Verona che ha pareggiato a Torino e allora ecco che una vittoria del genere può eh far diciamo così far ripartire la benzina eh non solo nelle gambe ma anche nella testa dei calciatori blucerchiati. Va bene siamo così al termine della nostra chiacchierata. Ringrazio Luca Lunghini come sempre per averci illuminato con le sue riflessioni e do appuntamento ai nostri spettatori per la prossima puntata. Ciao Luca grazie. Ciao Andrea grazie a te alla prossima.